Si sono presentati alla Santa Messa Natalizia e hanno significamente preso posto tra le ultime file. Sono i nove ormai ex lavoratori della Clinica Santa Barbara di Gela che rivendicano a gran voce la loro occupazione. Il sindacato sta facendo quello che è nelle proprie possibilità. Intanto è stato audito dalla sesta commissione e in sesta commissione Cigelle e Cisle, con i lavoratori presenti, ritengono di avere ottenuto un buon risultato, cioè lo spiraglio per riaprire questa trattativa, in quanto davanti al Presidente Onorevole Di Giacomo anche l'imprenditore di questa clinica privata si è impegnato a trovare una soluzione perché la cosa potesse tornare indietro, perché questi lavoratori potessero tornare al loro posto di lavoro. Noi oggi siamo qui e siamo venuti a messa, come tutti gli altri lavoratori, perché ci riteniamo ancora lavoratori di questa clinica. Però se lei ha visto, ci siamo messi tra gli ultimi, perché noi riteniamo di essere tra gli ultimi e il Cristo ha avuto sempre un occhio particolare per gli ultimi e noi a Lui ci rivolgiamo. Sicuramente ha avuto un occhio particolare per gli ultimi e non per i primi. Tra i primi c'erano gli imbrenditori, sono gli imbrenditori che debbono fare un passo avanti verso questi lavoratori, verso queste nuove famiglie che sono rimaste fuori, che sono in mezzo a una strada. Ma non esimiamo da questo il sindaco di Gela, il nuovo sindaco di Gela a cui dobbiamo dare merito e atto che era con noi in Zesta Commissione, ma che dopodiché non l'abbiamo più visto. E al governatore che è cittadino di questa città. Infatti chiediamo al sindaco, al governatore e al presidente di questa clinica Santa Barbara di riunirci anche durante le feste. Noi siamo pronti a venire qui anche per Natale, per Santo Stefano, per il 27, per il 28, per concludere questa vicenda che non può concludersi con il licenziamento di nove padri di famiglia che da 30 anni svolgono la loro attività presso questo ende e vengono sostituiti da una società terza.